Ciao, mi chiamo Audrey. Quando avevo 24 anni, avevo tanti prodotti dei capelli nel mio bagno, cercando di maneggiare e gestire il mio afro-crespo capello. Sai perché? Perché cercavo di farcela da sola spendendo i miei soldi. Tutto costa. Si mangia un grosso ma così. Non ti costa 3, 4, 5 euro. Ti costa la tua salute. Si giochi a Candy Crush. Non è gratuito. Ti costa il tuo focus. Poi, se vai a guardare i YouTube video gratuiti su come gestire le cricini, come gestire il capello afro, quale prodotti comprare, non stai risparmiando. Ti costa il tuo tempo. In qualsiasi modo, paghi. E se lo devi fare, assicurati che vale la pena. E se lo devi fare, assicurati che vale la pena.